il culetto a questi nemici dai ma montagne ok montagne back recuta e ash non entrare subito l'ultimo sicuramente sarà caveira raga io ci scommetto sicuro che sarà caveira oh frost no ai 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 e no e le dove vaffan vaffan no vabbè ragazzi ammirato il nuovo vino termico di class raga c'è c'è veramente qualcosa di assurdo sto mirino termico e anche se l'ha fatto fuori però sti cazzi vai grande la recuta balla fuori no ma che fai no no cazzo suoi mochi si è fatto interrogare no dai e guarda qua fate un'ultima occhiata l'imortacci vostri e bravi venite bastardoni ma che cazzo ma porca puro no raga raga contatto nemico con l'ostaggio sarà che non era affatto un cazzo gente sta partita vero ora vedrà di riscattarmi spero è vogliamo una cosa no niente trappola dovrei aggirare ma che cazzo ma che cazzo le le murte le nonna ottimo a girare è questo ostaggio ottenuto muoversi ole difensori neutralizzati vittoria per gli attaccanti bam porca puttana ma perché non hanno preso no io me ne vado vaffanculo io me ne vado ragazzi stanno fizzando no cave perché sei rimasta qua c'è su soli sti cazzi sei scemo oh oh e falla soltare in aria oh il nemico si sta impossessando del contenitore intervenita lì nooo non ci voglio credere caga procediamo oh attenzione 5 contro 4 occhia allora hanno doc e due regole mmm vogliono trollare questi mmm strana e brutta sensazione eh si infatti drona porca miseria ok ok ma che vaffanculo va ok raga dopo che sono crashato da sta classificata a casa di un stramaledetto codice di errore però mi sono riconnesso eccovi il nuovo operatore spara fiorellini esplosivi ci sarà mai ok indovinatelo voi grazie ok ok mmm nooo nooo ragazzi capitava mattinchillato martacci tuoi occhio occhio cambio caricatore perca puttana nuovo caricatore nuovo caricatore dai raga grandi si maledetto team killer nils ah si ma la recluta dov'è beh stanza dobbiamo proteggere il contenitore dai raga 3 a 1 avanti cos'è ah anche se non ho fatto un contenitore di più cazzo o cave scendi su porca miseria siamo a 10 secondi il nemico ha individuato il contenitore di più alle vediamo dove verranno olè secondo piano eh dico bene persaglio in mezzo ai piedi terzo piano eccellente spacca ma porca puttana i mortacci de pippo cazzo cazzo porca puttana dentro 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 c4 posizionate ultimo nemico rimasto che raganno messo due ragù deve trovare ho una strana e brutta sensazione dai fiuz oh a terra ma porca puttana come nemico ma davvero raga essere a mega vinta sta partita mega vinta raga ve lo dico dai grande grandissimo mamma mia come li abbiamo spaccati male mado strana mega vinta sarà significata